Proseguiamo di qua, tra l'altro c'è anche una bandiera italiana qua, l'ho appena notato Peccato che in realtà non posso andare in molte parti per comprare qualcosa di nuovo Sembra che il percorso numero 5 sia l'unico aperto Percorso numero 5, dall'incrocio pedonale a Udagawa Quindi quel numero 2,2, 2,2360679 è la radice quadrata di 5 Ah faccia da P e le sue battute sfigate E cos'è quello 0 più 5? Il percorso 5 tocca 6 aree in totale L'incrocio central street, A-Max, Tipsito, Sol, Shiboku Eze e Udagawa Se diciamo che l'incrocio è lo 0, Udagawa sarebbe il 5 precisamente Problema risolto? I nostri obiettivi sono il boss dell'incrocio e di Udagawa Bene, ora concludiamo questa missione Prossima fermata Udagawa Allora andiamo verso Udagawa Oh ma guarda chi c'è Oh, ancora loro Ah, eh, ci sei? Da dove diavolo venivano quei rumori tabù? Deve averli creato il Game Master E li ha sguinzagliati contro noi demoni Ma che cazzo, è pazzo! Arrivano Uzaki Se la stanno vedendo brutta Allora Neko, facciamo arrivare alla cavalleria? Allora contro di lei direi proseguire Ma contro di lui, beh, aiutiamoli Sì, gli roderà il fegato Come sei vendicativo E se rispecchia l'anime Credo di sapere chi è il boss No, non sapevo chi era il boss Beccati sto fulmine di Pegaso Eh, ti piacerebbe? Dov'è? Dov'è? Dov'è cacchio va? Il controller che Che svalvola non mi serve Perchè oggi va a caso? Dai, spara! Fulmine Porca miseria, oggi Perchè vai a... Porca miseria, fermi tutti Ok Ora va Un pelo meglio Ma dai Ulla madonna Quell'attacco Quell'attacco è nuovo Porca Oggi che cazzo c'ha il Joy-Con? Oggi il Joy-Con ha problemi Di memoria Colpisci Joshua però anche te Aspetta Ecco qua Colpisci Neku sappi che ti sto odiando In questo momento O meglio Non so bene Cosa odiare Di preciso Quindi me la sto un po' Prendendo con te Beccati Porca miseria Ho scelto Ho scelto le spille Peggiori per averle In squadra assieme Ho scelto Quella che gratta E quella che spara Dovevo sceglierne una sola Ok almeno questo Ok almeno questo Oggi Oggi lo sto odiando Le spille che ho scelto E almeno uno È andato Ecco fatto Non posso tenere Queste due assieme Si sovrascrivono In una maniera Terribile Si Fanno schifo Assieme Santo cielo Grado C E ci credo Ci credo Non prendevo Un voto così Basso da tempo E abbiamo ottenuto 5000 yen Wow Poi ci si mette Anche il joycon Ragazzi State bene Voi due Perché ci avete aiutati Cosa siete Stupidi Siamo vostri nemici Pronto Seriamente Possiamo difenderci Da soli Ci avete salvato Le chiappe Eravamo morti E sepolti Cosa Cariglia Nemici o no Se qualcuno ti aiuta Si dice grazie Ah come vuoi Non abbiamo chiesto Il vostro aiuto Solo a pensarci Mi viene voglia di vomitare Un demone Che ha bisogno Di un giocatore Che lo salvi Bah che schifo Andiamoci Le cariglia E' solo una parola E' così difficile Avrebbe preferito Essere cibo per i rumori Forse che schifo E' la sua versione Di grazie Muoviamoci Beh Non abbiamo ottenuto Molto oggi Comunque Questa spilla Non è male A livello di danni Purtroppo Non possiamo usarla Insieme a quella Meglio tornare Su questa qua Oggi non so Che cazzo di problema Ci abbia questa spilla Ma non riesco a sparare A parte il joycon Che ha svalvolato Per il Per sua motivazione Che non so Grazie Tra l'altro Questo tizio qua Dopo un po' Che ho ricevuto La sua amicizia Vende Lo ricalco Che cosa vuoi In cambio La damantite La damantite Come si ottiene Probabilmente Da dei nemici Più avanti Ma Se si potesse Anche craftare Grazie Se si potesse Anche craftare Non sarebbe male Comprerei qualcosa Solo per aumentare La nostra amicizia Allora Aumenta i pf Aumenta l'attacco Aumenta la difesa Aumenta i pf Aumenta il tasso Di sincronizzazione E il coraggio di venti Che questo L'abbiamo già preso Io Prenderei Quello Dell'attacco Sì Prendiamo l'attacco Dai Ah pensavo Che era uguale a questa E infatti lo è Come lo ottengo Con la Tectite 50 yen Ma guarda Anche no Sto bene così Tieni Neku Fatti un giro Di vitamine E tu Joshua Visto che tanto Ti piace tanto No ho finito Il ramen di shio Peccato Volevo dartene un po' A Joshua Gli aumentiamo L'attacco Perché gli serve Tieni Vendiamo Un paio di spille E compriamo Quello che aumenta La difesa Un po' per aumentare La sua amicizia Un po' perché Effettivamente Anche se di due Sinergia Mako Che cosa fa? Aumenta la difesa Di sei Vuoi il liquido Misterioso Il nido di rondi E l'adamantite Niente di più Signorina Al prossimo giro Dobbiamo aumentare Le difese di Neku Assolutamente Con qualsiasi Tipo di cibo Medicina che sia Siamo arrivati Che ore sono? Mancano 30 minuti Facilissimo Spacchiamo questa cosa Già boss? Ah senza neanche vederlo Sì Purtroppo Sapevo benissimo Carry tu il boss Qui Beccati questo Ecco fatto Allora aumentiamo Allora aumentiamo Il sincro Al 200% Anche se in realtà Forse Non ne ho bisogno Meno male che Siete Lenti Sarebbe bello Sarebbe bello avere Un equipaggiamento Che magari ti faccia vedere Quanta vita hanno i nemici Quello sarebbe utile Oh Grado B eh Per il tempo Effettivamente ci ho messo un po' Ulla Qua abbiamo avuto un Non so se è stato scriptato o meno Ne dubito Ma abbiamo avuto un culo Decisamente ampio Questa non lo so Questo sicuramente Con il grado B poi Potenziamento attacco 10.000 yen Yes Liric Il came Timer scomparso Ovviamente Missione completata Resisti Shiki Ancora un giorno Roba da Z Divertenti Z La mia testa Di nuovo Ma ciao Di nuovo annoiato O forse ti sentivi solo Non posso lasciare Che voi due moriate I miei calcoli Andrebbero farsi friggere Perderei tutta la motivazione Per creare Sono felice Che ce l'abbiate fatta Felice Perché dovrebbe essere felice Ah Quindi eri tu L'aiutente misterioso Della prima battaglia Grazie Chiunque sia troppo debole Per battere uno 0-0 Come quello È spazzatura Crunch Lui Ci ha aiutati Ricordate che Che giorno è domani Il giorno 7 Il giorno magico In cui posso giocare con voi E ora un piccolo quiz Quanto rapidamente Vi cancellerò Non troppo velocemente Spero 2 299 Punto 192 Punto 458 Metri al secondo Cosa? La velocità Della luce? Correggerò con la deviazione Che ti ha salvato L'ultima volta Che ci siamo incontrati qui Questa volta Sei un uomo morto Il dolore scompare Io e lui Siamo in qualche modo collegati Domani Non sarà divertente Posso solo immaginare Cosa proverà a fare L'ultima volta Cosa voleva dire? Stava parlando con Joshua Sembra essere lui Il bersaglio Della faccia di P Quindi Loro due Si sono già affrontati Qui prima d'ora Quando? Non posso biasimare Nessuno che voglia Menare questo ragazzino Ma dovrà mettersi in fila Una volta passato domani Questo conclude il rapporto di Yashiro Quindi i rumori tabù Erano opera di Minamimoto E' alto tradimento signore Mi permette di occuparmi di Minamimoto Non ce n'è bisogno Discuterò della sua punizione Con il compositore Il tuo interessamento Non è richiesto Capisco Tuttavia il fatto Ha una certa urgenza Spero raggiungete rapidamente Una conclusione Passiamo al caso Del giocatore illegale Posso agire in questo caso O preferisci discuterlo Puoi Le regole sono molto chiare Sì signore Un ultimo appunto Un certo giocatore Ha dimostrato Grande resistenza Neku Sakuraba Cosa mi sai dire di lui? Ha Sakuraba Ma certo Proprio quando pensavo Di aver capito qualcosa di lui Giorno 6 Ma seconde pagina Proprio quando pensavo